Con una delibera di giunta datata 20 ottobre, l'amministrazione comunale di Nocera Inferiore ha indetto il bando di concorso per l'accesso al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli a favore dei comuni ad alta tensione abitativa e destinato ai cittadini residenti nel comune di Nocera Inferiore e ai cittadini titolari di contratto a uso abitativo regolarmente registrato di mobile ubicato sul territorio comunale che non sia di edilizia residenziale pubblica. Il bando e i modelli da compilare per la domanda sono disponibili presso l'Ufficio Politiche Sociali di Via Libroia oppure sul sito del comune all'indirizzo www.comune.nocera-inferiore.sa.it La domanda unitamente ai documenti richiesti dovranno pervenire in busta chiusa a mano all'Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo raccomandata AR riportando il seguente indirizzo Comune di Nocera Inferiore, piazza Diaz 1 84014 Salerno Servizio Politiche Sociali. La scadenza è fissata per le ore 12 del 2 novembre.